Cosa è? E' la dolcissima Aeris Tu chi sei? Aeris E' la tua mente Sì, l'abbiamo mai parlato E' così E' non ricordi? Non c'è nessuno? Guarda! Vole del fiore! Oh! Vole del fiore! Nell'originale... Tu sei... Il barbone dei bassi forzi! No, non sono io! C'era di fiori a ripararli! E' andata bene! Sto pestando i fiori! Per scherzo tutti! Gioco di ronardo! Povera aereo! Guarda, guarda! Oh mio Dio! Ho visto la scena! Un flash della scena! Una scena futura! Vedete quella batteria? Le cade giù dalla testa! Mentre lei sta pregando! Oh mio Dio! Che scena! Che scena! Se la scena futura... Se la scena futura... ...l'ha dato mia madre! Eh... Eh... Lo so! Lo so! In quella scena lì c'era molto sangue... C'era molto sangue... Ema... C'era molto sangue... Ehm... Gli occhi della parte! Fai la guardia del corpo? Io posso anche guardare il corpo! Non è un problema però! Ha il mio sesto senso! Dovina sempre dai! Infatti se li sceglie proprio i giusti! Guarda! Ah... Non lavoro gratis! Non lavoro gratis! Ditto! Oh vabbè! Lei concedono tutti appuntamenti! Eh... Eh... Class... First! Ha ha ha! Quanto sia prima! Omae! Ho sconfitto! Ho sconfitto! Una pessima boss fight per me però! Andiamo via! Sono i famosi duelli del gioco! Scusa se ti ho fatto aspettare! Sei pronto Goku! Guarda! 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 Esatto! Arrivano sti cosi! Cosa? Torni? Reno! 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 Ha perso eh! Cattone! Cattone! Va bene! Vediamo un po' di cattone! Finita la sequenza lo metto! Reno! 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 In Brasile eh! Tarx... Quindi... Era la baraccopoli con sorpresa! Molto sorprendente! Tarx... Siamo a Brasile! E Tarx non sa come ne ha ingaggiano un soldi forse! Non c'è anche un'imposto una cosa! Ce n'è anche un altro 소리! Non c'è anche questo? Non c'è anche un standard! Non credo! Della faccia sì magari, ma il resto non lo voglio, no ragazzi... Ah faccia si faccia Ah no ma neanche quella Era di vero Potrei diventare una soldia perfetta No Eris non mi sembri una soldia Aspetta rallenta Vorrebbe fare il soldato Non sa neanche saltare Dai Eris Ma comunque lei è stupenda Non mi piace il nome Lauren Solo Esatto non posso dire Bella questa situazione Così ovviamente Però si Marinaio l'ha fatto anche lui Hai hai Questo qui è il capitolo 8 No Non lo voglio Non lo voglio mi spavento Rimango traumatizzato come ero E volate giù No No Non approvo io Approvo di traccinarmi in giro a Eris per la città Questa è la prova Anche io preferisco Ada Tra l'altro Fai onore Vediamo quanto su come sei messo Perché ho modificato Ci sono anche Ada Wong Albert Wesker Adatoppi Esatto Ada sembra vera Ada sembra vera Non è un personaggio È un videogioco Sembra vera Ada sembra proprio vera Scendiamola Stavolta Stavolta vado prima io Oh Come A me non piace Alberto Trascendente No Albert Wesker Non deve piacere Sei trascendente Esatto È superato l'umanità Fai next Fai next Fai next La è trascendente Io so Diventerò l'intertenitore Che mi tiene per ora E' un personaggio Per la vita Tra l'hai trascendente Ho giocato Hai superato l'umanità Teclar Wow 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 Sembra l'inizio di un buon film Ok Cavallo Esatto Esatto Che dovrebbe tornare A casa mia Tornare Lo sentirò in settimana Ho paura Ho preso in braccia Mi hai salvata Si Perché si faceva male Se cadeva Eh beh A base le faceva Una bua Al pupù Però Non penso eh Mi hai salvata Ti ricordo che lei Mi ha proposto un appuntamento eh Se la proteggeva Ho capito Aveva la grande dote Eh beh Adesso l'hai capito bene No non faccio niente Io no Ma manca lui Lo lasciati Lucia Ci ha detto Lo dice anche lei No Ce n'è di strada da fare Giro lungo Sei stanco Va figuro A me è venuta fame A non bon chérie Mhahaha Facciamo una scorpacciata a casa mia Si sa che scorpacciata Fai bene, fai bene, anche tu i tuoi impegni assolutamente ci mancherebbe altro. Bambini, devo vedere il reattore. Ma sorpreso che sto fillafase sia strapieno di bambini. Ovunque, come se fosse una parte integrante del gioco, non so perché tutti questi bambini. Allora, ci vediamo. Vai, vattene, dice vai via, ciao ciao. Ciao, matane! Siamo alla prossima, in giapponese. Vedi, è pieno, è pieno, è pieno, è pieno di queste cose. Eris! Ovvio che lei è l'idolo. Allora, veniva la casa verde. Allora, va bene. Vada a Claude, come ne frega, infatti. Una casa famiglia. E a dove eravamo? Inoltre a Giocai? Inoltre, andiamo insieme! Ciao, Eilis! Anche oggi sentiamo un'altra volta! Sì, buona parte! Mi sento o lo allega? Ma lei è brava! È tanto brava! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Qual è che hai visto a Anna? Non lo sconducco, è la mia guardia del corpo, è la mia guardia del corpo, no, orfani, sono cuccioli d'uomo, esatto, sono orfani loro, infatti, no, esatto, sono orfanelli, è il medico di zona, gli porto le erbe, vedi, vedi perché va così d'accordo, abbiamo capito perché è così felice di vederla, gli porta le erbe, E' l'euro, siamo arrivati, e sono passato a Eilis per la proposta, è l'euro per la sondazione, sono passata, e' l'euro qui, grazie, faccio la seconde, se lo seguire, si ci viene a fare color, rebevo la regga, sono rienti, beşer, c'estate, rip surprised, ho accanto, Diceva anche un certo avvocato italiano Mi piacciono i fiori E lei è una fioraia Se ne è fumato il fiori Se ne è fumato il fiori A chi l'hai dato? Non me lo ricordo Devo crederci Sarei gelosa breve Non scoprirai che cloccia un'amica di infanzia Il destino dell'ingelosirsi Quando trovi una tifa Però Però anche Alice ha il suo facile Ti presento casa Mia madre La mamma Io più che altro voglio curarmi Perché sono stufo di vedere tutto Come se lo stesse morendo No la musichetta Bellissima Mamma mia Il paradiso sta zona Siamo arrivati Siamo a casa di Aeris Ciao Ciao Elmira È venuto Rude Sono amici Mi sono amici Elmina Questa è Cloud Bodyguard Grazie per aver aiutato Buon lavoro Grazie Torno nel settore 6 Voglio venire Voglio venire Ma Esatto Torno nel settore 6 Senti Di te la musica Questa qui La famosa Musica di Aeris Prometto che ti prendo Non chiedi mai indicazione Non c'è nessuno Vado con Cloud Vado con Cloud Nel settore 7 Dice di va bene Domani Vieni a dormire qua Tu non vuole È follia È follia È follia Ma qual è il ricompenso C'è qualcosa Guardate No non dire L'ha fatto per un appuntamento Allora premere il cestino Caccarotto Esatto Cacca sotto Cacca sotto C'era problemi di salute Quindi anche Mi hanno fatto Grinder Stai cambiando Stai portando qualcosa Di nuovo Devi un wifi Leggendario Mi si era frizzato Ah ok No si è frizzato Tutta Si va in vacanza Creme è finita Ok Meno male Quindi Shindra Ha fatto È stato Ha fatto una brutta fine Shindra Meno male Ok Coci coci Questi sono i nostri piori Ci porta in giro Stavamo dicendo che Aeris È famosa per portare le erbe Al medico È una cosa del gioco C'è tanto di studiare Ti aspetto qui Esatto Altra realtà vuol dire Come c'è il game da K La mia nuova partita Nuova partita più Classico Ah ok ok Non conoscevo Ema Sai che queste cose Non è il mio campo di conoscenza Tipo.